Cambieranno, forse già dalla prossima settimana, i parametri in base ai quali la cabina di regia determina le restrizioni. Ad annunciarlo è il presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsilio. Ho ricevuto rassicurazioni dal ministro Speranza, ha detto Marsilio. Il Dicastero della Salute modificherà i parametri per classificare le regioni e probabilmente le nuove misure saranno inserite nel decreto sostegni bis. Sostanzialmente sparirà il primato dell'indice di contagiosità RT per determinare il colore delle zone. Il caso abruzzese è emblematico del paradosso riguardo i parametri. Attualmente l'RT regionale è a 0,95, sopra la media nazionale è appena sotto la soglia di 1 da cui scatta la zona arancione. Seppur il virus si diffonda ancora velocemente, al contempo però complice il caldo e la campagna vaccinale, sembra che la malattia abbia manifestazioni percentualmente meno aggressive. Gli ospedali infatti si stanno progressivamente svuotando. Ieri erano complessivamente 255 pazienti ricoverati, 15 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 235 in area medica e 20 in terapia intensiva. E vi è anche il caso di Pescara, la cui provincia per incidenza del virus è da circa un mese tra le più virtuose d'Italia. A livello regionale però, come detto, l'RT non è affatto basso e rischia di far oscillare l'Abruzzo verso la zona arancione. Proprio all'avvio della stagione estiva, quando i telefoni di camerieri, bagnini e altri precari lavoratori stagionali stanno tornando a squillare. Da qui i timori di chi spera di guadagnare qualcosa grazie all'estate. Secondo un'indagine Svimez, ben 73.200 imprese in tutta Italia, soprattutto quelle più piccole, rischiano di chiudere. Sono il 15% del totale. La richiesta delle regioni è quindi quella di sostituire l'RT con il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri come principale parametro per determinare i rischi del contagio. Con un'incidenza media largamente sotto 100 e Pescara da quasi un mese, praticamente un mese sotto 50, quindi che sarebbe stata zona bianca già da quasi un mese, ritrovarsi magari in arancione senza il giustificato motivo, perché l'unica ragione che ci deve motivare ad adottare misure restrittive è quella di evitare che la gente finisca in ospedale, che gli ospedali si riempiano. Quindi questa è la razio dei provvedimenti. Le regioni hanno chiesto di utilizzare come parametro principale quello della incidenza, cioè il numero dei casi rapportato all'occupazione dei posti letto negli ospedali. Richiesta di cambiare i parametri che, a detta di Marsilio, è stata accolta da Roma e dalla prossima cabina di regia potrebbero cambiare anche le regole del coprifuoco, sul quale in questi giorni si sta consumando una battaglia politica in seno alla maggioranza. Il premier Draghi ha già fatto capire che il coprifuoco in stile militare rimarrà. La prossima settimana però potrebbe essere imposto un diverso orario di rientro a casa che dal 24 maggio potrebbe slittare alle 23 o a mezzanotte.